Bella a tutti signori e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e siamo tornati su Among Us Dopo tanto tempo torniamo a giocare Among Us Signori, vi ho portato pochi episodi di questo gioco sul canale, ho fatto più qualche live Comunque, non perdiamoci in chiacchiere ma entriamo subito in azione Prima di perdere il video vi ricordo di iscrivervi al canale Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che è dato alla serie e al canale Vi ricordo di iscrivervi sui social, soprattutto su Instagram e su Facebook Dove vi informo su quando escono i video e su quando andiamo in live sia su questa piattaforma che su quella viola Vi ricordo che ho attivato gli abbonamenti quindi fate un salto se la cosa vi interessa E in descrizione trovate i link dei canali che si sono abbonati Ovviamente essendosi abbonati col massimo livello hanno ottenuto una sorta di sponsor Detto questo signori, non perdiamo altro tempo anche perché mi sto a soffogare E partiamo con il video Ok signori, allora Allora, senza induce easy busy lemon squeeze Andiamo in public Ah, enter name, scusatemi Sono un attimo di incretinito Siamo da cellulare, signori Quindi dobbiamo un attimino Resistemare tutto quanto Ok Il nome ce l'abbiamo E andiamo in partite pubbliche Quale prendiamo? Allora, prendiamone una in cui non so già tutti i carichi Mister Conan E la partita è finita Ottimo, che cosa carina A posto Inizia benissimo questo video Però ce la possiamo fare Ce la possiamo fare Riusciremo Riusciranno i nostri rovi a trovare una partita Chi lo sa? Non si sa Speriamo tutto Incrociamo L'incrociabile Lennon Da Lennon possiamo andarci a giocare? No, manco da Lennon Signori, non ci vogliono fare giocare E domenica Sono tutti da Peppa Pig Mi fai giocare da Peppa Pig Ti prego Mi fai giocare da Peppa Pig No, manco da Peppa Pig Allora, cambiamo server, signori Mettiamo Nord America Perché già mi stanno a girare le scatole Mettiamo Nord America Andiamo Su Mando Mando Oh Da Mando possiamo giocare Finalmente Quanto meno una partita Ok Fatemi che Mamma mia come si muove velocemente il nostro mino Rispetto al computer È una cosa terribile Aspetta Che io ho le di tozza grosso E non riesco a fare nulla Riesce da lì Perfetto Vediamo se riusciamo a modificare il nostro mino Giallo lo possiamo prendere? No Allora ci teniamo il rosso Ci mettiamo il cappellino da cowboy Mi sta molto simpatico Pet non abbiamo Skin nemmeno E va bene Ci teniamo il cappello da cowboy Signori In questa nuova avventura Ci avremo il nostro bellissimo cappello da cowboy E siamo partiti subito Se chi è l'impostore Siamo o no l'impostore? No Perfetto C'è un impostore E siamo nella crewmate Ok Allora fatemi un attimo prendere confidenza Col Con la versione per video Per 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 Telefonino Che non so Minamente come cazzo Aspetta Dobbiamo andare qua Non sono Mi sento completamente rincretinito Ok Quanto è facile quella per computer Signori Ma quanto è più facile Mi viene molto più facile Quella per computer Sembra un ubriaco che corre Sembra un ubriaco Ce la posso fare Ce la posso fare Dai Dai Seguiamo la freccetta No Ho sbagliato stanza Io poi non mi ricordo assolutamente nulla C'è un repost Ma perché? C'è un cadavere Oh c'è un cadavere Porca miseria Me l'ho perso il cadavere Signori In storage Bello che è passato uno E' morto Black Beer Brock Black Beer In Vediamo se riusciamo a Storage Yes Blu safe Where Mando was voted Where Red Il blu me la sta mettendo Nelle chiappette Signora Il blu sta votando No 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 Storage Ok Vote Red Vote Red No Ma perché? No No Signori In storage No No Stanno votando me Ma no Ma dai Ma stavo andando a farla quest Stavo andando a farla task I go to task Il mio inglese è terribile I go To Task Secondo voi lo capiscono che non sono inglese? I go to task No No Dai No Non mi possono Non mi possono far così subito Come si diamo a sti cazzoli dei messaggi? No Skip No Mi hanno buttato fuori Che prima partita brutta signori Non ero io l'impostante E per una volta che non ero gli impostori Mandatemelo a quel paese No No Come non sai poter Sì 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 Voglio distruggere tutto Mannaggia a loro Non posso far nulla Non posso far nulla Hanno completato le tasche Come che hanno già completato le tasche? Io sto ancora volando come un usignolo Guardate come volo Bello Tranquillo Dai signori Concludiamo Usciamo da questa partita Basta Mi sono rotto le scatole E cerchiamo in un'altra Allora Andiamo da Anna Mi piace Mi sta simpatico questo E no Anna Anna sono già pieni Giustamente Anna Da Queen Unique Mi fai andare No Manco da queste possiamo andare a giocare No Non mi fanno giocare da nessuna parte Ma che paranoia Da Gabby Andiamo da Gabby Fai giocare da Gabby Oh Da Gabby siamo riusciti a giocare Con il nostro bellissimo cappello da Gabby Siamo blu questa volta Signori Porca miseria Non mi piace il blu Posso cambiare colore Metà del rosso Oh il rosso Mi hanno fatto dare il rosso Perfetto Ci siamo riusciti Abbiamo preso il nostro rosso Siamo in 7 su 10 Questa partita forse non inizierà mai Aspettiamo che parta Signori Ok signori Stiamo partendo Siamo 8 su 10 Va bene Va bene Io mi ero un attimino nascosto dietro un bidone Ma Ok C'è un impostore Facciamo parte della crewmate Ce la possiamo fare Allora Calma e sangue freddo Navigator Andiamo da una stanza navigator Subito Subito Veloce 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 Devo riuscire a comprare le tasche questa volta signori I nostri obiettivi Che devo fare No Lai il wifi Madonna mia Sono un impedito a giocare col telefonino signori Sono letteralmente un impedito Tanto più facile il computer Quanto amo il mouse signori Voi non potete capire Quanto Io ami il mouse Dai 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 E poi ho le dita tozze Dico A 72 anni Giocare ancora col telefonino Non è la cosa più facile di questo mondo Ho le dita tozze Però ce la posso fare Do 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 Anch'io devo fare questo zio Dai Siamo in admin Io ho giocato tante volte Ad Avongas Ma non ho ancora imparato Come cavolo si chiamano tutte le stanze Apparentemente Ogni volta mi Mi perdo Ok E questo l'abbiamo fatto Allora dobbiamo andare In admin Un'altra Un'altra in admin Dai Dai No Questa è quella della carta No Siamo spacciati Signori Uuuuh Primo colpo Grande così Di solito ci sono 8000 anni In storage Torniamo in storage La stanza che prima ci ha portato sfortuna Di questa volta Vediamo di farla bene Storage Salve Salve Buongiorno Che dobbiamo fare qua Oh la benzina Ok dai 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 rimpi 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 Vediamo che dicono in chat Vediamo che dicono in chat Let's play hide and hide and hide and I will hide I'm Storage Il viola ha fatto repost Hide and seek Il bianco non si capisce cosa stia scrivendo Ok Ma che stanno a fa Gabby no It's It's No è stato Chi m'ha ucciso Vedete che non mi ricordo chi No ma ha ucciso il marrone Ma ha ucciso il marrone Guarda che è il marrone che sta buttando fango sul viola Gabby ha votato No How you reported Viola Pol 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 non vuol dire viola Si ma è stato il marrone Signori Si stanno facendo tra l'inganno Si stanno Uno ha votato il marrone Tutti hanno votato il viola E praticamente hanno sbattuto fuori il viola Abbiamo vinto noi Perché abbiamo vinto Sono l'unico che è morto in tutto questo No siamo in due che siamo morti C'è anche l'omino lì con l'uovo in testa Col orciano se non penso Perfetto signori Bella così Ottimo ritorno su Among Us Signori Detto questo io mi fermo qui Se questo video vi è piaciuto fatemelo sapere Eventualmente ne portiamo altri Live sarà un po' più difficile organizzare Perché ripeto sono da cellulare Quindi la cosa è un po' più particolare E detto questo signori Buona domenica a tutti quanti Noi ci vediamo sempre qui sul canale Per un prossimo contenuto Bella raga Ciao 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 Ciao